Oh, Tornado, Star Wars Bella raga, siamo su FIFA 13 Per che cosa? Per farvi il tutorial di come si fanno le condizioni Io non... lo farò Francesco perché io non posso perché ho il dito tagliato Con un coltellaccio Ok, allora Innanzitutto fai la punizione Ok Poi No, no, facciamo Puglies No, Johnny Non ne vai mai Sì, 26 metri Allora Bisogna attivare sul Joypad Cioè, la Madonna, il Joy Tiriamo su... Ah, il Joy è fatto, il Joy L'analogico è sinistro L'analogico è sinistro Al massimo Poi cerchiamo di mettere l'ultimo difettore con il palo Poi tiriamo due tacchette Che figura lì Non ci rivolgiamo Sempre la stessa cosa E... Ma porca puttana Non si batte, eh Dai, ok Adesso faccio il tepe Allora, sempre sul palo Quello non è il palo Una tacchetta fatto Eeeh No, dai Basta Favvelo fare noi Ci prova Mario Anche con il dito monco Ma che cazzo Sul dito monco No, no È pirlo che non... Cioè, si sa batterlo No, no Adesso è quella buona Attenzione Attenzione Wow Minchia Perché tu batti una e mezzo Allora, se fa due tacchette esce Guardate Fai due tacchette Perfetto Eeeh Andrea Fireloat Riproviamo l'ultima volta Ma che è l'ultima volta? Uuuuuh Badona Badona Naturalmente si tira con un cerchio Però non era male, eh Cos'è il palo? No Ma merda Sto tacchette Una tacchetta Dai, adesso basta Facciamo un... Aggiungiamo un altro tutorial Sì Di come si fanno i rigori Attenzione ragazzi Questo è duro Come si parano i rigori Allora Per tirare i rigori Ragazzi Bisogna Prendere il puntino verde Ci vado? La striscia verde E non tirare troppo lungo Porca piettina Dai Questo qua Tutorial di come si battono i rigori Ecco va Hai pagato i rigori Devi mettere il vostro Massima potenza Adonna Invece come umiliarlo così Questo non mi piace Nel portino Ma parco Sei una merda Eh Sì ma sono uno spigato È diverso No no Guardate che gol Ragazzi Ma non si può fare una Pfff Sippa da me Cioè ricorda E' più schifosa Che ho mai visto Adesso Ma è che palle Te ne fai a tutte Non si è fatto Lui quando lo batta la metta Anche schifo Ma la madonna dove va? Top Stozzo Hey Ho Che battiamo adesso come batto E' come parare i rigori E' anche come si fa a parare i rigori Sotto Squadra in difesa Ho sbagliato Ah giusto Squadra in attacco Qua è in difesa devi mettere Oh Ok Bisogna usare tutti i due analogici per spostarsi Cioè per fare i tuffi Però ci abbiamo vidal come Vabbè Ma tu che cazzo di portiere sei? Un c'è Redway Attenzione guardate Il tuffo Eh ma che cazzo No una ve la pareremo Appena la para finisce il video Attenzione C'è emozione Attenzione Oh A sinistra in basso Siamo da mezz'ora qua Oh oh Magico Magico Non c'era Va bene Sattacco Fai la scappata Ok Ok Vai e c'è Un 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 c'è salutiamo bella raga sono stato un tutorial molto interessante come batte le punizioni battere i rigori e parare i rigori